Maria violentata e uccisa, aveva graffi sulla schiena, i risultati dell'autopsia sul corpo della piccola trovata morta in una piscina, i genitori al 21enne fermato, se non è stato lui ce lo dica in faccia, intanto a San Salvatore Telesino proclamato il lutto cittadino. Al via gli esami di maturità, tra eco e voto alle donne, l'ansia e la preoccupazione di 65 mila studenti in campania, oggi la prova di italiano, tra gli altri temi l'uomo nello spazio, i confini, il valore del paesaggio, lunedì lo spauracchio del Quizzone. PD, Casillo, un errore candidare alla Valente, il capogruppo in regione dei Democratici analizza otto cianne del voto dopo i ballottaggi, Napoli ferita aperta, commissario in arrivo, intanto il sindaco De Magistris accelera per la giunta. Coffeeshop per la droga, quattro arresti, varcaturo come Amsterdam, blitz dei carabinieri nel locale illegale, realizzato in un appartamento, quattro ganesi nei guai, si poteva consumare droga e beri alcolici, tra tavolini e luci psichedeliche. Scomparso da dieci giorni e giallo nel napoletano e mistero per la scomparsa di Paolo Parisi, 25 anni di Liberi, partito per le Marche in cerca di lavoro, l'apprensione dei familiari, temiamo gli sia successo qualcosa di brutto. In 25.000 al San Paolo per Gigi D'Alessio, il cantautore napoletano infiamma lo stadio di fuori grotta e ai suoi fans dice in dialetto, la casa è sempre la casa. Insieme a lui sul palco ospiti d'eccezione Gianni Morandi, Sal Da Vinci, Chiara e i DR Jack. E questi erano i titoli di oggi, ben ritrovati, edizione delle 14. In apertura, Maria, violentata e uccisa, aveva graffi sulla schiena, lo dice l'autopsia effettuata sul corpo della piccola, trovata morta in una piscina a San Salvatore Telesino, nel Sannio. I genitori si rivolgono al 21enne fermato e indagato per omicidio e violenza sessuale, se non è stato lui ce lo deve dire in faccia. Sentiamo il servizio. Quei terribili sospetti diventati terribili realtà, dopo le risultanze della visita esterna prima e dell'autopsia dopo, la piccola Maria di appena nove anni è stata abusata e uccisa. E l'attesa, ora, è per le prossime mosse della procura e degli investigatori dell'arma dei carabinieri. Il loro lavoro, frenetico, va avanti ininterrottamente da due giorni, ed ora necessita di una svolta che permetta di definire il quadro nel quale sono maturate le responsabilità per la terribile fine toccata alla bimba di San Salvatore Telesino, violentata ed uccisa. I sospetti degli inquirenti e quelli dei carabinieri per ora si sono addensati su un mentonente, anche egli di nazionalità rumena. Lui ha offerto, come persona informata sui fatti, una versione sui movimenti compiuti dalla sera di domenica alle due di lunedì. Una ricostruzione che ovviamente è al vaglio di ogni minimo aspetto di chi è chiamato a far luce su una vicenda agghiacciante che ha scommolto l'opinione pubblica. Una storia che potrebbe riservare, come già anticipato ieri da 8pagine.it, anche ulteriori implicazioni, costata la vita di una fanciulla, abusata e poi gettata nell'acqua dove è annegata. Una fine orribile, forse l'ultimo atto di un'infanzia stroncata chissà quando dalla cattiveria umana. Un'atroicità che ieri è finita su un tavolo dell'obitorio, un corpicino violato che ora grida giustizia. E a San Salvatore Telesino la calma di sempre è solo un lontano ricordo. La morte della piccola Maria ha scosso tutti e l'agghiacciante verdetto dell'autopsia ha scioccato i cittadini. Poca è la voglia di parlare alle telecamere. Chi lo fa oscilla tra la rabbia estrema per quella vicenda che rappresenta una macchia indelebile sul paese. Si chiede che la macchina della giustizia faccia presto a scoprire la verità, ma tutti ammettono che una ferita del genere non potrà mai rimarginarsi. È cambiato tutto, ammettono i cittadini. Non ci fidiamo più di nessuno. Forte la commozione per quella bambina conosciuta da tutti, sempre allegra, pronta a salutare anche dieci volte se dieci volte ti incontrava a bordo della sua bicicletta. Dal parroco ai vicini tutti a San Salvatore Telesino ricordano quella bimba allegra, andata via troppo presto, strappata barbaramente da questo mondo. E sono almeno 200 i casi accertati di maltrattamenti e violenza sommersa tra le mura domestiche in campagna. In alcune zone l'abuso e l'incesto sono quasi la normalità. Lo ha detto il garante dell'infanzia della Campania che ha presentato una ricerca. Sentiamo il servizio. Abbiamo testimonianze dirette e indirette che ci sono in terre zone, in quartieri molto critici, in cui l'abuso sessuale, l'incesto, è elevato a normalità. Lo ha detto il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Campania, Cesare Romano, presentando oggi a Napoli una ricerca che stima in oltre 200 i casi di maltrattamenti e violenza sommersa fra le mura domestiche. Romano ha citato i quartieri Salicelli, Adafragola, Madonnella, Dacerra, Caivano ed alcuni quartieri di Napoli. Vogliamo accendere i riflettori su questo fenomeno e fare qualcosa che sia non solo un approfondimento, ma soprattutto prevenzione e contrasto a un fenomeno che va sicuramente combattuto. Ma innanzitutto credo che bisogna dire che l'incesto è un reato e quindi di conseguenza nel momento in cui ci sono delle certezze che sia avvenuto un incesto è necessario che l'autorità giudiziaria possa intervenire, perché è importante stabilire che il fatto è molto grave. Evidentemente non basta più forse il concetto di prevenzione così come si è inteso sempre, bisogna forse iniziare un percorso nuovo, una capacità di intervento nel territorio, perché se non si interviene nel territorio è inutile il lavoro che si fa. Il problema c'è, è un problema che fino ad oggi ci ha visto silenti, dormienti, distratti e finalmente abbiamo aperto gli occhi su un dramma che è veramente un dramma, che a questo dramma della pedofilia, degli abusi anche all'interno delle famiglie si aggiunga poi un altro dramma che è quella della povertà, dell'evasione scolastica, dei bambini che non hanno gli stessi diritti degli altri bambini, questo poi anche bisogna ripetirlo. Oggi al via gli esami di maturità tra Umberto Eco e Voto alle donne, l'ansia e la preoccupazione di quasi 65 mila studenti in Campania, tra gli altri temi l'uomo nello spazio, i confini, il valore del paesaggio. Domani la seconda prova, lunedì lo spauracchio del Quizzone, vediamo. Ho dormito una bellezza, mai così bene ti giuro, fantastico. Ma un poco in ansia, ma se penso che solo il primo esame di tanti universitari mi passa. Mezzo milione di studenti italiani, quasi 65 mila in Campania, ai nastri di partenza per gli esami di maturità, per i ragazzi il solito ventaglio di scelte, analisi del testo, redazione di un articolo di giornale, il saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale. Sei le ore a disposizione per lo svolgimento. Non sono mai stata così ansiosa in vita vita. Ho dormito un paio d'ore e poi ci siamo svegliati, non lo so, sono svegliata un bel po' di tempo. Ho tentato di dormire in vano perché non ci sono riuscita proprio in pieno, mi sono addormentata intorno alle tre. Più che altro sono ansiosa per iniziare l'esame, più che la prima prova. Oggi dovrebbe essere semplice, mi auguro con tutto il cuore che vada bene. Sapete come si dice, gli esami non finiscono mai, anche per noi dirigenti c'è l'esame, gli alunni e gli insegnanti si aspettano, dicono chi è questo nuovo presidente, come si comporterà, è ovvio. Lei come si comporterà con i ragazzi? Beh, io già ho detto ai ragazzi affrontate questa prova con serenità, ma non con superficialità, anzi con molto impegno, ma questo molto impegno non significa essere preoccupati perché la vita è fatta di esami. Tra le tracce uscite, Umberto Eco sulle funzioni della letteratura, il PIL per il saggio in ambito economico e il rapporto padre-figlio per il saggio in ambito artistico. Ancora il suffraggio universale e le donne al voto per il tema storico. L'avventura dell'uomo nello spazio invece nella tipologia saggio breve in ambito tecnico-scientifico è una riflessione sui confini e la traccia proposta ai maturandi per il tema di attualità. Io vedo che i candidati inizialmente sono un po' preoccupati, ma poi quando hanno letto le tracce sono molto interessanti, come già avete notato. Ho visto che hanno riflettuto prima di mettere penne su carta. Domani la seconda prova, lunedì lo spauracchio del quizzone. L'esame di maturità è una bella sfida. La politica adesso, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, accelera per la nomina della nuova giunta. Intanto nel Partito Democratico si apre la resa dei conti. Il capogruppo PD in regione, Mario Casillo, a 8 Channel, dice a Napoli si riparta dai giovani. Squadra che vince e non si cambia. Sceglie la metafora calcistica, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per spiegare perché il governo della città riparte dagli stessi uomini. Nessuna rivoluzione, dunque, ma tante conferme per il De Magistris 2. Ma ora dimostri di essere il sindaco di tutti, il messaggio che gli lancia Valeria Valente che intende condurre una battaglia decisa dai banchi dell'opposizione. Il caso del PD napoletano sarà al centro della direzione nazionale del partito e nel PD, come conferma la Tartaglione, bisogna distinguere tra il dato disastroso della città e il riscatto ai ballottaggi arrivato dalla provincia. Tra gli artefici del rilancio, il capogruppo PD alla regione, Mario Casillo, che aveva manifestato anche a Renzi i suoi forti dubbi sulla candidatura a sindaco della Valente. Poiché il Partito Democratico in questi anni, in particolare in città, non si era radicato bene e quindi non aveva fatto emergere una nuova classe di gente, secondo me era il momento in cui il partito si dovesse aprire e doveva indicare una candidatura della società civile. era una mia idea, ovviamente era un partito democratico in cui non sono il solo a dover decidere, si è deciso di sostenere Valeria, io l'ho sostenuta, lei ha fatto anche una bella campagna elettorale, ci ha messo tutto di su, ci ha messo tanto del proprio impegno e ha dato un grande valore aggiunto, ma il contesto era difficile, purtroppo il risultato che era raggiunto era il massimo che si poteva fare in quelle condizioni. Il governatore De Luca, che sabato sarà in Irpinia per riaprire la funicolare per Montevergine chiusa da quattro anni, ammette che a Napoli c'è stata sfiducia e lontananza dalle istituzioni e il dato negativo dell'affluenza alle urne è clamoroso, ha detto De Luca, che punta adesso ad avere un ruolo di primo piano nella nuova fase che si apre nel PD napoletano. La cronaca a Varcaturo come Amsterdam, blitz dei carabinieri nel coffee shop illegale realizzato in un appartamento, quattro ganesi finiscono nei guai per la comoda location dove consumare droga e bere alcolici era possibile tra tavolini, accoglienza e luci psichedeliche. Simone Tagliaparillo. Quattro persone sono state arrestate a Napoli dai carabinieri che hanno scoperto un coffee shop in via vicinale i Gelsi a Qualiano. Il locale era dotato di addobbi luminosi, tavolini, sedie e banconi con alcol e stupefacenti. Durante la perquisizione i militari hanno trovato e sequestrato 300 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, bustine per il confezionamento e 350 euro in banconote di vario taglio. Il blitz è stato realizzato grazie ad accurati e lunghi servizi di osservazione e controllo a distanza. Così i carabinieri hanno scoperto che quell'abitazione era stata adibita a coffee shop. Lì si era creato un continuo via vai di assuntori che si recavano in quella casa per servirsi dall'esposizione sui banconi sia di alcol che di stupefacenti. I carabinieri delle stazioni di Qualiano e Varcaturo hanno quindi fatto irruzione nel locale in perfetto stile Amsterdam. Passando per la cucina e per una stanza di mezzo con tanto di illuminazione psichedelica dove gli assuntori venivano accolti e lasciavano giacche giubbotti, si arrivava nel cuore del ritrovo, completamente isolato dall'esterno per non essere visibile. Lì c'erano divano, banconi, tavolinetti e su tutte le pareti liquori e birre di ogni tipo. Su vari ripiani della stanza residui e attrezzi per l'assunzione di cannabis in tutti i modi conosciuti. I quattro ganesi sono stati arrestati, si tratta di una 52enne sui due figli e un 32enne. Dopo le formalità di rito, i quattro sono in attesa di rito direttissimo. Associazione a delinquere, questa l'accusa contestata dagli investigatori ai cosiddetti furbetti del cartellino dell'ospedale Ruggi di Salerno. La procura sta indagando su ben 766 lavoratori dell'ospedale di via San Leonardo coinvolti nell'indagine Just in Time condotta dalla Guardia di Finanza. Il PM Francesco Rotondo ipotizza una vera e propria organizzazione. 18 gruppi di lavoratori che si coprivano a vicenda e timbravano il cartellino ai colleghi che si allontanavano dal posto di lavoro. Di qui il reato contestato di associazione a delinquere che per molti dipendenti si aggiunge a quello di truffa ai danni dello Stato. Non è l'unico fronte aperto che vede il Ruggi protagonista. Ieri infatti i carabinieri dei NAS hanno effettuato altri sequestri nel reparto di ginecologia dello stesso ospedale. Qui l'accusa è la compravendita di posti letto per scavalcare le liste d'attesa. Sulla vicenda la deputata 5 Stelle Maria Rita Giordano ha presentato un'interrogazione al Ministro della Salute chiedendo un'ispezione governativa. I fari di Punta Imperatore e Capodorso sono stati affidati ai privati. A Maiori il WWF trasformerà la struttura in attività di monitoraggio della biodiversità. Invece a Ischia un'azienda tedesca trasformerà il faro in un resort di lusso. Paola Iandolo. Punta Imperatore e Capodorso sono i fari di Ischia e Maiori che finalmente rivivranno. L'Agenzia del Demanio con il Ministero della Difesa ha proposto un affitto a privati per un massimo di 50 anni. Percorsi apparentemente agli antipodi. Da un lato il WWF che si è giudicato il faro di Capodorso incastonato a strapiombo sul mare. Dall'altro una società tedesca che ha già trasformato il resort in una serie di fari in tutta Europa. Ha il via libera su quello di Punta Imperatore, una delle strutture più belle del Mediterraneo attivo dal 1884 sul promontorio di Forio con una visita sul canyon di Kuma popolato da delfini e capodogli. La parola d'ordine quindi è valorizzazione. E proprio ieri si è conclusa la gara di aggiudicazione, benché l'affidamento formale delle strutture avverrà a luglio. Due commissioni appositamente costituite, una per l'Agenzia del Demanio e l'altra per il Ministero della Difesa che avevano proceduto in seduta pubblica all'apertura dei plichi. Il nostro progetto prevede una valorizzazione della struttura del faro di Capodorso con un'attività di educazione, di osservazione e monitoraggio, spiegano dal WWF. Ad un target turistico elevato si rivolgerà invece la proposta progettuale della Floating Lighthouse che già dispone di un ampio ventaio di fari nei quali trascorrere, come da slogan, vacanze uniche e romantiche in location remote e lontane dalla quotidianità. Tra gli esclusi eccellenti anche il popolare chef Gualtiero Marchesi che ambiva con la sua resort a un cenacolo di alta gastronomia. Il via libera al progetto tedesco garantirà ora una nuova vita alla struttura che gli schitani auspicano rispettosa dell'alta valenza paesaggistica e della sua storia. Mille euro al mese per un complesso demaniale destinato ad un ristorante di lusso e residenza a due passi dai templi. Corte dei Conti e Guardia di Finanza contestano un danno erariale da oltre 700 mila euro indagato il sindaco di Pestum Voza, Giovanni Battista Lanzilli. Un danno erariale contestato di 735 mila euro frutto di un canone di fitto anno troppo basso versato per una struttura commerciale a due passi dai templi. Guardia di Finanza di Salerno e Procura Generale e la Corte dei Conti Regionali vogliono vederci chiaro sulla concessione relativa al ristorante Nettuno di Pestum. Si parla di un complesso immobiliare di pregio di proprietà del comune di Capaccio e affidato all'ente per le antichità i monumenti della provincia salernitana poi girato in gestione alla famiglia Pisani ed in particolare alla signora Pina Pisani moglie del sindaco della cittadina salernitana. E proprio la fascia tricolore di Capaccio Pestum Italo Voza risulta indagato dalle fiamme gialle e dalla Corte dei Conti che hanno contestato una condotta sulla quale intendono vederci chiaro. Un canone annuo irrisorio di appena 12 mila euro per tenere aperto un ristorante in piena area archeologica a due passi dai templi. Per questo motivo sono arrivate richieste di chiarimenti all'amministrazione e all'ente per le antichità i monumenti. Un complesso immobiliare di pregio che, in un territorio considerato patrimonio unesco, probabilmente dovrebbe valere qualcosa in più per le casse municipali. Questa almeno l'ipotesi avanzata dai finanzieri. Sulla vicenda, questa mattina il sindaco Voza ha chiarito i termini della questione. Tanto rumore per nulla. le parole affidate ad un comunicato nel quale si precisa che il comune di Pestum non c'entra nella vicenda, dal momento che la struttura è stata affidata fin dal 1932 all'ente per le antichità e i monumenti. La fascia tricolore esclude dunque qualsiasi responsabilità e si è detto certo che le contradduzioni affidate ai tecnici municipali serviranno a chiarire ogni dubbio della Corte dei Conti sul presunto danno erariale. A Benevento stamattina in tribunale la proclamazione dei consiglieri eletti, ma ad impazzare sono rumors e indiscrezioni riguardanti le nomine per la nuova giunta di Clemente Mastella. Sentiamo Andrea Caruso. Prima fila occupata quasi interamente, con qualche intruso, dalla maggioranza che sarà guidata da Clemente Mastella. Poi Grillini, Farese e Sguera, l'omonimo di quest'ultimo eletto tra le file di Benevento Popolare, mentre la rappresentanza Demmer ha ridotta la sparuta presenza dei civici a Versano e di Dio. La proclamazione degli eletti in tribunale è l'ultimo step formale, prima che il nuovo consiglio comunale dell'era Mastella possa insediarsi a Palazzo Mosti, ma in attesa dell'esordio del rinnovato parlamentino beneventano, ad impazzare è ovviamente il toto giunta. L'idea dell'ex ministro è chiara, giunta politica in cui vadano premiate le performance elettorali dei candidati al primo turno e i partiti che hanno sostenuto la battaglia al suo fianco. Una o due le deleghe da assegnare ad esterni, alla cultura potrebbe esserci il ritorno di Nazareno Orlando, che ha sostenuto Mastella ma senza presentarsi tra le sue liste. Un tecnico puro, forse un docente universitario, andrebbe invece ad occuparsi dei delicati affari legati al bilancio. Il perno attorno al quale ruota la costruzione della squadra al momento è Luigi Ambrosone, il recordman di Preferenze e Pasdarandi Clemente Mastella, balla tra l'incarico di assessore al commercio e quello di vice sindaco. La fascia tricolore è indecisa se premiare la lealtà dell'ex consigliere di minoranza oppure bilanciare le anime politiche della sua coalizione rispettando l'accordo di massima della vigilia che prevedeva per la casella di numero due un esponente di Forza Italia. Però è chiaro che le scelte aspettano a lui, sia per quanto riguarda le deleghe di assessore, se lui riterrà opportuno che possa far parte della squadra che dovrà governare come esecutivo la città e sia anche per quanto riguarda la possibilità di poter essere il suo vice, che sicuramente per me sarà un onore non di poco conto se lui dovesse decidere in questo modo. Coniugare le tecniche investigative con la tutela ambientale, Procura e Camera di Commercio di Salerno lanciano l'allarme inquinamento in costiera amalfitana, un tesoro in pericolo. Giovanni Battista Lanzilli. La tutela dell'ambiente e dunque della legalità va di pari passo con lo sviluppo del territorio perché un mare inquinato significa non solo contestazione di reati ma anche ricadute negative in termini turistici con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in una zona come la costiera amalfitana che è una delle cartoline campane più belle che il mondo ci invidia, uno scenario messo a rischio dagli uomini in un contesto nel quale i tantissimi sequestri di depuratori delle ultime settimane e gli amministratori locali indagati segnalano la necessità di un deciso cambio di rotta. Procura di Salerno e Camera di Commercio hanno presentato stamattina il convegno dal titolo evocativo Un tesoro in pericolo in programma venerdì al Palazzo di Giustizia. Una sorta di modello Salerno che ha messo a punto tutta una serie di problematiche ma anche una serie di modalità di intervento processuale per raggiungere un duplice obiettivo, quello dell'accertamento dei reati che è il compito precibo della Procura ma anche quello dell'attivazione dei necessari meccanismi di bonifica ambientale in questo territorio che diciamo è benedetto da Dio ma non tanto dagli uomini. Noi abbiamo un problema di inquinamento in questo caso stiamo parlando delle acque della costella amalfitana ma il riverbero che questo ha sull'aspetto economico è fin troppo chiaro. Se lei ha il mare inquinato i turisti non vengono, gli operatori economici non investono, anzi devono chiudere le loro attività. se lei ha il mare pulito significa avere un luogo dove dobbiamo sempre più nella competizione tra i territori quindi con la Spagna, con la Grecia, con la Francia attrarre turisti. Nel pomeriggio arriverà il nome del successore di Vincenzo Petruziello alla segreteria della CGL Avellino cominciati in mattinate ai lavori dell'assemblea e duello tra Marco D'Acunto e Franco Fiordellisi. Si profila una sfida a due per la carica di nuovo segretario della CGL Avellino, Marco D'Acunto contro Franco Fiordellisi, funzione pubblica contro Filctem, la sensazione è che si andrà alla conta finale con il primo dato in leggero vantaggio. D'Acunto risponde al profilo indicato dal centro regolatore della Camera del Lavoro, cioè il livello superiore a quello provinciale, in questo caso il commissario regionale Spadaro. Fiordellisi invece è il segretario della Filctem, indicato dalla sua segreteria nazionale e da alcuni segretari regionali. I lavori dell'assemblea sono cominciati in mattinata, urne aperte fino alle 16.30, per il via libera al primo turno occorrono 40 voti sui 79 aventi diritto, per il secondo è sufficiente la maggioranza dei presenti. Intanto dopo otto anni e due mandati si chiude la gestione Vincenzo Petruziello che lascia in dote un sindacato forte a livello provinciale. Le battaglie sull'immigrazione è uno dei punti da cui dovrà ripartire il suo successore. Sembra accantonata l'ipotesi di una terza via. Quella di Antonio Famiglietti, attuale segretario organizzativo, poteva essere una candidatura di traghettamento in vista del prossimo accorpamento con la Camera del Lavoro di Benevento, ma nelle ultime ore ha perso peso il profilo istituzionale della sua scelta. Il treno per Napoli Paolo Parisi non l'ha mai preso e da due settimane ha fatto perdere ogni sua traccia lasciando in apprensione un'intera famiglia che sta vivendo un vero e proprio incubo. Il 25enne di Liveri, cittadino in provincia di Napoli, aveva fatto i bagagli alla volta di Corridonia, nel piccolo centro delle Marche, giunto il 28 maggio scorso. Avrebbe dovuto trascorrere un paio di settimane a casa della zia, un periodo sabbatico durante il quale Paolo avrebbe dovuto valutare alcune opportunità lavorative. Il lavoro purtroppo non l'ha trovato. Paolo decide quindi di far ritorno a casa. La mattina del 12 giugno viene accompagnato dalla zia alla stazione ferroviaria, previsto per le 9.30 il suo ritorno a Napoli. Ma Paolo alla stazione Garibaldi non arriverà mai. All'Iveri intanto cresce la preoccupazione per le sorti del giovane, che pur avendo alle spalle un passato difficile caratterizzato dalle ristrettezze economiche della famiglia e dal carcere per una serie di reati minori, era comunque conosciuto e benvoluto da tutti. Un buono voglio, che ora è successo, quello che è successo non ti sa, perché è successo. Un ragazzo che per me è un proprio ragazzo, non è che non ha niente da… certo è una cosa strana che è scomparso, non lo so. Drammatico l'appello di Giorgio, lo zio del 25enne scomparso. Spero di trovarlo vivo, dove sta, di accendere il telefonino, sentirsi come sta, se sta bene o sta male, lo possiamo anche andare a prendere, più di questo, spero che si fa vivo. Chiudiamo con la musica, Gigi D'Alessio infiamma allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, in 25.000 a Napoli sugli spalti per cantare insieme al cantautore, insieme a lui sul palco ospiti d'eccezione Gianni Morandi, Sal Da Vinci, Chiara e Dier Jack. Vediamo Paola Iandolo. Gigi D'Alessio infiamma il San Paolo, in 25.000 ieri al suo concerto del Tour Malaterra, a casa è sempre casa, ha detto D'Alessio ai suoi scatenati fan che hanno affollato gli spalti dello stadio di Fuorigrotta. L'artista napoletano non si è certo risparmiato nella propria esibizione, regalando al pubblico oltre 31 brani scelti tra quelli maggiormente amati dal pubblico. Durante l'attesissima serata D'Alessio ha fatto ripercorrere fedelmente agli spettatori le varie tappe della sua carriera musicale, dai testi risalenti ai suoi inizi come cantante fino ad arrivare alle collaborazioni con artisti novelli del panorama musicale italiano. Ad aprire il concerto sono stati Chiara Grispo e Dier Jack, concorrenti del talent di Amici. Il cantante ha aperto il concerto con le canzoni Vivi e Quanti Amori. Tantissimi poi ospiti che hanno duettato con il musicista napoletano, Gianni Morandi, Salda Vinci, Gigi Finizio, Valentina Stella, sono alcuni dei nomi degli artisti che hanno stupito il pubblico. La serata è stata memorabile e ancora una volta il calore dei napoletani ha acceso il cuore del cantante. E chiudiamo qui questa edizione del telegiornale, adesso arriva lo sport, poi alle 15 una nuova edizione sempre in diretta del nostro notiziario. Arrivederci e buona giornata.